La stagione di Formula 1 è caratterizzata dal duello tra Graham Hill e Jim Clark, che si impongono in set dei nove Gran Premi disputati. Al volante di una BRM, Hill conquista la vittoria nel Gran Premio d'Olanda, in quello di Germania, a Monza e in Sudafrica, conquistando 42 punti ridati contro i 30 del rivale, penalizzato da 4 ritiri. In ogni caso, un mondiale dominato da piloti e scuderie di scuola britannica.